Allora siamo qua al Teatro Verde di Montecatini ma non è solo il Teatro Verde di Montecatini stasera io sono contento perché sono con lui lui che è lassù, un po' meno di lassù ma che è qua, è Roberto comunque Roberto da questo punto che dire a tutti gli auguriamo tutto il bene possibile grazie ha detto che poi dopo c'è delle sue amiche che ci verranno a trovare che ci verranno? quello ce l'auguriamo ah sempre ma insomma come dice il proverbio dalla donna cantante ma è un consiglio Roberto è da buon intenditore d'ocche ha detto le parole giuste questo nostro messaggio è per il sito quindi dobbiamo dire altre cose ci siamo già sputterati da vicenda li salutiamo tutti ciao e con questo abbiamo chiuso proprio